A Chieti gli screening di massa sulla popolazione partiranno sabato 6 e domenica 7 febbraio per replicare poi di seguito sabato 13 e domenica 14, quindi due fine settimana sindaco Diego Ferrara per cercare di mappare un po' la situazione epidemiologica sul territorio comunale, sono state individuate otto sedi ma ci sono delle criticità relativamente proprio al personale. Ecco, vogliamo fare un po' il punto della situazione e cercare di capire come vi muoverete su questo territorio? Senz'altro, allora abbiamo dovuto shiftare di una settimana l'inizio della campagna di screening proprio per reperire un numero sufficiente di personale sanitario, prevalentemente sanitario per effettuare questo screening. Da un punto di vista logistico avevamo già individuato e questa mattina c'è stato un ennesimo sopralluogo, otto sedi tra cui palestre comunali a direzione diretta o indiretta e palestre di scuole di scuole elementari. Per ogni sede pensiamo di applicare tre linee, cosiddette tre linee produttive, pertanto dovremmo, secondo i calcoli, arrivare a 10.000 persone testate in ogni weekend, in ognuno di questi due weekend, per un totale alla fine di 20.000 persone che rientrerebbero perfettamente nel range tra 10.000 e 30.000 persone testate affinché lo screening risulti tecnicamente e scientificamente valido. Per quanto riguarda il personale amministrativo che dovrà fare in pratica il lavoro di schedatura delle persone che afferiscono a queste sedi, le abbiamo, hanno aderito non solo gli uomini della protezione civile ma anche tantissimi consiglieri comunali che verranno a prestare la loro opera. Abbiamo avuto qualche problema per il personale sanitario ma lo stiamo brillantemente risolvendo facendo una campagna di sensibilizzazione capillare anche con chiamate personali e abbiamo il contributo ovviamente tecnico della ASL e secondo me tutto andrà a buon fine.